Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, finalmente stasera andrò allo stadio, maggio deciso, stasera ho allo stadio finalmente, perché anche l'hanno fatti cire perché le altre partite erano pure mezze bloccate, questo 50, per cento, 30, 25, è il mio mescoglione, non mi piace sta storia e quindi ha fatto il tuo anche in questo caso e non ci ho. Comunque stasera vado, ho deciso, perché comunque l'hanno pure aumentato la capienza, hanno riaperto la sud, l'altra volta era chiusa, io vado alla curva sud, quindi ci vediamo stasera allo stadio per chi ci sarà, qualcuno mi riconosce e mi saluta quando vado allo stadio. Per quanto riguarda oggi praticamente le probabili formazioni, ci saranno Calabresi e Barrega sulle fasce, Terzini, Centrali, Lucioni e Dermago, centrocampo ci sarà la novità Faragò al posto di Maier, Gargiulo e Ulmando, in attacco ci saranno la novità Listoschi al posto di Mariano, quindi finalmente hanno dato fiducia a Stufagnone che se lo merita, con la speranza che Caniri paga. E vabbè ovviamente coda e strafezza, classici insomma, quindi speriamo bene ragazzi, se ci muoji stiamo in paradiso, quindi ragazzi con la vittoria andiamo direttamente in paradiso, quindi ovviamente nulla è scritto, però ci possiamo godere il primo posto finché poi non riprenderà il campionato, quindi speriamo bene Vagnuni. La Vicenza, attenzione a Vicenza perché sicuramente sarà una partita insidiosa, anche se sta penultima in classifica, è una partita insidiosa come abbiamo visto anche col Pordenone, quindi queste partite sono quelle più difficili. Non le dobbiamo prendere sotto gamba, dobbiamo giocare con grinta, entusiasmo, cattivera, agonistica, come abbiamo fatto con la Cremonese, che volevamo vincere a tutti i costi e l'abbiamo fatto, quindi lo dobbiamo fare la stessa cosa oggi ragazzi. Quindi speriamo bene, sempre solo Forza Lecce, ci vediamo oggi allo stadio, oggi faremo un bordello, una speranza cuba in cima, continuate a iscrivervi al canale, grazie a tutti quelli nuovi iscritti e quelli vecchi, continuate a seguirmi, ci vediamo nel prossimo video. Ovviamente oggi cercherò di fare qualche video magari in diretta nello stadio e il posto partita, mi raccomando continuate a seguirmi, ci vediamo a presto ragazzi. Ciao a tutti e Forza Lecce e Bari Salerno, merda sempre tutta la vita, via!